In Serie A, ce ne restiamo in Serie A, ce ne restiamo in Serie A, in Serie A Ale Ale O, Ale Ale O, e tanto già lo so che anche l'anno prossimo gioco all'Olimpico Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale Dopo la sconfitta di Frosinone e Cagliari Finalmente lo possiamo dire, il nostro Lecce è matematicamente salvo Con tre giornate in anticipo e alla salvezza mancava oramai la matematica Ma appunto questo verdetto è arrivata nella serata di ieri sera E ovviamente tanti tanti auguri a tutte le mamme Allora, che bello salvarsi senza giocare E secondo me è un record comunque questa salvezza con ben tre giornate in anticipo Perché non ricordo sinceramente di salvezze del genere Ne ricordo tante, è arrivata alla penultima, addirittura all'ultima giornata Fatemi sapere con un commento se invece c'è stato qualche anno in cui ci siamo salvati Con più giornate in anticipo, oltre che appunto alle due Una stagione quella di quest'anno bellissima Ma particolare perché il nostro Lecce ha cominciato benissimo la stagione La sta concludendo ovviamente allo stesso modo Forse anche meglio secondo me A metà anno invece c'è stata una flessione comunque molto importante Ma un ringraziamento speciale per questa stagione Va innanzitutto a voi iscritti perché mi avete dato un contributo Un supporto straordinario E mi fa piacere dire che ci andremo a vivere insieme qui sul canale Un'altra stagione di Serie A Un ringraziamento speciale ovviamente va a tutti i giocatori Che hanno dato un grandissimo contributo Un ringraziamento va anche ai nostri due allenatori Mister Daversa perché comunque ha cominciato la grande la stagione Peccato per come poi è andato a finire perché c'è stata come detto poc'anzi Una flessione e poi l'avventura con il Lecce è finita anche peggio Con l'episodio di Lecce Verona E un ringraziamento ovviamente anche a Mister Gotti Che è arrivato in una situazione e in un momento delicatissimo Quindi non era scontato comunque risollevare l'ambiente Lui ci sta riuscendo e ci è riuscito in una maniera eccezionale Spero che ovviamente lui possa rimanere sulla nostra panchina Da quel che so nel contratto c'è comunque una clausola Con un rinnovo automatico in caso di salvezza Quindi teoricamente dovrebbe rimanere Ma lui nella conferenza stampa di qualche settimana fa Disse che a campionato ultimato Si sarebbe seduto a tavolino per discuterne con la società E proprio della società voglio parlare per chiudere questo breve video Un ringraziamento ovviamente a Pantaleo Corvino Stefano Trinchera Serverio Sticchi Damiani A tutti quanti gli appartenenti alla società Perché sono leccesi innanzitutto E quindi so che faranno sempre il bene per questa città E per questa squadra Adesso ci sono le ultime tre partite da giocare Per onorare e chiudere in bellezza questa stagione Sarebbe bellissimo arrivare a quota 40 punti E magari anche superarla Perciò vediamo un po' cosa succederà Ci sentiamo domani per il video per le partite di Lecce Udinese Vi voglio un mondo di bene Forza Lecce sempre E alla prossima appunto con i contenuti di Lecce Udinese Ciao a tutti